Eventi in città, oggi poveriggio, dalle 17 in centro sono in programma le prove della parata militare che si svolgerà domenica 2 giugno in via dei fori imperiali in occasione della festa della Repubblica, fino alle 19 deviazioni per le linee 51, 85, 87 e 118. Sempre oggi pomeriggio sono in programma due diverse processioni, la prima dalle 18 a Prima Valle tra piazza Cape Celatro e via De Monti di Prima Valle, l'altra invece nella zona est della città è organizzata dalla parrocchia di San Luca Evangelista. I fedeli percorreranno tra le altre via Roberto Malatesta e via Gattamelata, dalle 19 possibili deviazioni o brevi stop per le linee 81 e 545.